Vorrei parlare di un tema che per me è fondamentale, di cui sembrano interessarsi pochi e la grandissima maggioranza degli italiani fregarsene assolutamente, invece la cosa secondo me è seria, vorrei parlare della protezione della lingua italiana, dice da quale pulpito viene la predica, tu che scrivi in dialetto, sì va bene, a parte che scrivo anche in italiano, però vedete il problema è un altro, il problema è questo, recentemente, qualche anno fa in Europa si è deciso che le leggi, cioè tutto ciò che loro fanno, siano tradotte in inglese, tedesco e francese, prima si traducevano in italiano, l'italiano è stato escluso, non vengono più tradotti in italiano, se tu vuoi conoscere le leggi dell'Europa, assolutamente devi sapere, o l'inglese o il francese, altrimenti Nisba non le conosce queste lettere, le devi far tradurre, questo significa una regressione della nostra lingua, i nostri deputati europei avrebbero dovuto opporsi e con forza a questa regressione, perché? Perché io avverto come dalla tecnologia, dove l'uso di una terminologia di lingua inglese è corrente, e quindi adoperata da noi nel linguaggio comune, si sia passato sempre di più all'adozione di parole inglesi anche nella vita comune, non solo, ma perfino i politici adoperano per leggi italiane o per norme italiane, terminologie inglese, election day e via di questo passo per esempio. che senso ha tutto questo? Tutto questo è prima di tutto un provincialismo assoluto, assoluto, sentire parlare un Presidente del Consiglio che adopera parole inglesi a me italiano fa impressione, è come se il Presidente del Consiglio inglese adoperasse parole italiane mentre parla al Parlamento, è una follia, è una pura follia, esistono parole italiane che significano esattamente la stessa cosa, perché non adoperare le parole italiane? Nel campo della moda non ne parliamo, ormai si parla solo inglese, è così che muoiono le lingue, sapete quante lingue muoiono? Muoiono 6 lingue ogni 15 giorni nel mondo, perché una lingua diventa proprio più forte del paese del paese che gli sta vicino e finisce a poco a poco per inquinarla completamente fino a farla scomparire. Dio mio noi abbiamo una tradizione letteraria fortissima, quella per fortuna non scomparirà, ma si rischia di far diventare l'italiano una lingua morta. Quindi io non sono, attenzione, un autarchico come capitò ai tempi del fascismo, quando Vanda Osiris, dovete cambiarsi il nome, in Vanda Osiris di San Luigi, levando la S finale perché faceva straniero, o San Luis blues diventava Tristezza di San Luigi come titolo del pezzo jazz, insomma un delirio mentale. No, ma una giusta difesa della lingua bisogna che sia fatta assolutamente. Noi abbiamo fatto una guerra infame ai dialetti, ma ai dialetti sono la forza di una lingua. Noi abbiamo questa rara cosa che sono i dialetti che altre nazioni non hanno, altri popoli non hanno. La lingua è nazionale, è come un albero che affonda le sue radici in tutta l'Italia e trae dalla periferia verso il centro le parole. Le parole così una volta diventavano lingua, dalla periferia al centro, ed erano come una linfa vitale per l'albero della lingua. Producevano foglie, vive. Se il terreno sul quale si nutre la radice dell'albero è inquinato da parole straniere, le foglie diventano gialle, l'albero muore e questo è il rischio che corriamo. Non ora, certo, ma fra vent'anni, fra trent'anni sì. E allora io invito a un minore provincialismo e al recupero delle bellissime parole della nostra bellissima lingua. È stato pubblicato in questi giorni un libro che si intitola come la penso. In questo libro ci sono alcune cosine perché con la cultura si mangia, quindi a parte che con la cultura si mangia, la cultura non è una cosa sacrale, una cosa da cult, una cosa per pochi, la cultura è di tutti. E poi cos'è la cultura? La cultura non è solo la letteratura, ma la cultura è il lavoro dell'operaio, la cultura è come lavora un impiegato, la cultura è come la pensa il capo condominio, la cultura siamo noi, perché noi siamo cultura, l'uomo è cultura. Quindi, certo che poi ci sono altre forme più alte di cultura, ma quando io sento che l'Italia è l'ultimo paese europeo a spendere per la cultura, a me mi cascano le braccia, perché dico a che punto siamo arrivati. Perché oltretutto c'è l'imbecillità di non capire che se tu spendi per la cultura, la cultura la tua spesa te la restituisce triplicata, perché spendere per la cultura significa tenere in piedi Pompei e non farla cadere a pezzi, significa dare la possibilità di tenere aperti musei sempre e comunque, significa sfruttare, sfruttare le nostre opere d'arte, per esempio anche il senso turistico, ma significa tante cose. Io non so se faccio cultura pubblicando libri, ma comunque scrivo libri. Nel momento nel quale in Germania ho venduto come ho venduto 6 milioni di copie e mi scrivono dalla Germania, ma com'è la Sicilia? Io vorrei andare in questo posto, io vorrei andare e io certe volte nelle risposte mi trasformo in una sorta di operatore turistico, beh io non so se è un fatto culturale, ma un fatto di soldi che rientrano in Italia sicuramente lo è attraverso il turismo. Facciamo Montalbano in televisione, racconto un'altra storia, facciamo Montalbano in televisione, la piglia la BBC e la manda in prima serata in Inghilterra. Non ci crederete, non ricevo una lettera da un organizzatore turistico inglese che fa due voli charter per la Sicilia con quelli che avevano visto Montalbano. La cultura fa mangiare, i soldi che si investono in cultura, torno a ripetere, vengono restituiti allo Stato almeno triplicati. Quindi la cultura oltre ad elevare l'uomo intellettualmente fa bene anche alle finanze dello Stato italiano. A me queste cose di dare messaggi ai giovani non mi va tanto giù, perché a parte il fatto che ho 88 anni e uno che dà consigli ai giovani, presuma a 88 anni di capire i giovani di oggi ed è un atto di presunzione. Per questo io non faccio mai né il buon nonno né il buono, cerco sempre di evitarlo accuratamente. Oggi una cosa però posso vedere, non come la pensano perché se la pensano per i fatti loro e fanno bene. Per capire i giovani di oggi bisognerebbe essere contemporanei dei giovani di oggi e la cosa mi è assolutamente negata. Io sono contemporaneo della bomba atomica, della televisione e della minigonna. Mi fermo alla minigonna che mi sembra un bel soffermarsi. Oltre mi comincia a diventare difficile, mi viene difficile il computer, internet non ne parliamo. Però è chiaro che una serie di contingenze economico, sociali, finanziarie o politiche sta ammazzando i giovani di oggi. Una volta c'erano le guerre, i giovani ripartivano e ci lasciavano la pelle e saltavano tre generazioni di giovani. Oggi questo fortunatamente non avviene più, però avviene un altro tipo, un altro tipo di omicidio diciamo, che è quello dell'ora avvenire. Cioè dire l'impossibilità per un giovane di realizzarsi attraverso il lavoro. Questa è la cosa più atroce che succede oggi in Italia a un giovane. E allora l'unica cosa che io posso umilmente dire a loro con molta umiltà è quella, uno, non di non perdere la speranza, perché io non credo alla speranza. Chi vive di speranza muore disperato. Io credo nei propositi, che si mettano in testa dei propositi di fare comunque, di resistere alla contingenza, anche alla disperata proprio. Facciano conto di trovarsi su una zattera, ma devono assolutamente questa zattera portarla su una spiaggia. Senza mai perdere non la tenerezza, ma il coraggio è la forza che viene a loro dal fatto di essere giovani. Io questo è l'agurio che faccio loro, non perdere mai la forza e la fede nella loro gioventù. In quanto agli adulti, molti degli adulti sono responsabili della situazione di oggi. Quindi il consiglio che posso dare agli adulti assennati, diciamo, è quello di interessarsi assai di più alla vita politica con le proprie opinioni e alla vita politica con le proprie opinioni è sempre e comunque un atto positivo. Quindi continuare ad essere esistenti nella società. Passate parola. se lo ritenete opportuno. Se non lo ritenete opportuno, tacete.